Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Pons Channel Oggi ragazzi siamo qui su Hiker Lover, dopo tanto tempo Mi sembra che l'hanno aggiornato ragazzi, però a parte questo Ok, questa è giusta ragazzi, aspettate che abbacca il volume Che se no, ci sbano a questo Ecco Chi non vorrebbe una Lamborghini, quindi dimmelo Tutti quanti vogliono una Lamborghini Tutti, tutti, quanti Ah, ok, perché Oh, piramidi Io me ne vado, io me ne vado Ma come è possibile questa cosa? Dai Non è possibile No, io me ne vado Ciao, 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 ciao Madonna Breaking Bad Breaking Bad Madonna mia C'è una donna il più famoso di un film Vabbè Va bene Dit penality Birra Birra Oh, mamma mia Oh Eh, 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 eh Oh Ma io me ne vado Ma dico io ovviamente Lasciam perdere 4 milioni infatti Poi Red Meno Mamma mia Ragazzi è il mio record Meno Oh Buono NBA NBA Mamma mia Mamma mia Divorzio Meno Molto meno Poi Di meno Ah Vabbè dai ragazzi Non ce la mettiamo Non ce la mettiamo Dai 5 Dove fa schifo Clash of Clans Autofit Meno Oh Madonna Di 100.000 Hitler Ok Templerun Mi sembrava Reddit Questo è un sito famoso Ora non lo so Oddio E lo sapevo che era un sito famoso Questo È un sito famosissimo Io lo conosco Ufo Va bene Poi Thesis Pre Ai 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 Che cosa brutta Va bene Di meno Ok Però che cosa brutta Donnei Ah Non si dice Golf Ole Golf Vabbè No Niente Che mani C'ha sto tizio FMG Che cos'è Non lo so È anche famoso È anche abbastanza famoso Dai L'inventore Di Facebook Dai Eh Insomma BBC BBC Vabbè Io non li conosco Ste cose Cioè Di meno Quindi posso andare nel sicuro Sì Posso andare nel sicuro Ehm 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 Grit bar Di meno Mamma mia Ragazzi Mamma mia Mamma mia Ehm Di più Di più Di più Sì Sì ragazzi Sì 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 Golf Quanto teneva la golf Cento mili Di meno È vero È vero Mi ero scordato male Mi ero scordato male No Io non ci credo Dai Non ci credo mai Raga Scusatemi per i bordi neri Ma Penso che ci metterò qualche immagine Come faccio su Clash Royale Ora vediamo Di meno Questi più Ho le macchine Veramente Mamma mia Eh Non lo so però Pensi meno È infatti Troppo forte Standard Ma io non li conosco Però sicuramente Di più Ok Io non li conosco Questi Femmi di tre Di meno Mamma mia Sono pari Sono pari È il di meno Ah Un milione Guarda Oddio Non è un cacchio C'è Vin Diesel Dai Questo avrà milioni Infatti Vin Diesel Cacchio Coach Festival Di meno Dai Dai ragazzi Ci siamo Dai Questa macchina è bella Ok Ragazzi Questo E ne facciamo dieci Chanel Dai Oh Ragazzi dieci Dieci ragazzi Dieci Anorexia Di meno Ok Ok Va bene Va bene Va bene Rossetto Rossetto Ah Cacchio Vabbè Dai ragazzi Undici Buonissimo 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 Undici Dai Ce l'abbiamo fatta Vabbè Ragazzi Il video può finire qui Se vi è piaciuto Lasciate like Un bel like Cazzo Vabbè No Lasciate like Iscrivetevi al canale Vi prego Consigliatemi un gioco Da portare Perché il mio tablet Veramente sta aspettando Di essere Registrato Con tutta la sua bellizia Non è vero Fa schifo Perché non tiro niente Di memoria Comunque Mi vuole un po' di gioco Il tablet Quindi consigliatemi Un gioco da portare Sul canale E io Lo porto davvero Ma davvero Volentieri Quindi il video Per finire qui Lasciate like Iscrivete al canale E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao ragazzi E mi raccomando Iscrivetevi anche Al canale Di Zedet Che è davvero Un grande amico Per me E ci vediamo A un prossimo video Ciao Ciao Ciao